allora iniziamo dalla costruzione del cappello vi faccio vedere più o meno ora è difficile metterlo completamente dritto e fare un inquadratura decente ma volevo solo farvi vedere come come ha fatto questa non è altro che una striscia di 36 maglie lavorata a falsa costa inglese appoggiata sopra al mio manichino sopra la mia testa sono andata a cucirla qui decorandola con alcuni cristalli e poi ho eseguito una cucitura proprio sopra e le ultime 12 maglie del centro le ho raggruppate tutte in modo che non venisse quel becco antiestetico se io avessi cucito maglia su maglia per come ho fatto qui nel centro quindi adesso lo tolgo dal manichino e questo è il nostro cappellino è molto carino molto semplice da fare si può fare anche per i bambini considerando che la nostra lunghezza del lavoro quindi tanti giri facciamo e tanto sarà la circonferenza non è un progetto adatto cioè scusate non è un progetto da fare esclusivamente con i ferri circolari quindi anche con i ferri dritti in una serata lo si fa perché è veramente divertente anche il punto a me piace tanto sia come finitura che come proprio come lavorabilità perché c'è un solo solo un'alternanza di rovescio e un dritto doppio lasciato andare che adesso vedremo assieme ovviamente le misure da bambino io poi vi scriverò tutto sotto nel link ma io vi dico la misura che voi dovreste realizzare per realizzarlo da bimbo o da bimba in quel caso dopo sarete voi che andrete a calcolare a vedere quanta quanto lungo dovrete fare il vostro lavoro io l'ho lavorato come al solito col noblesse di mani in maglia io ho usato questo snow ne ho ancora e mi piace tantissimo sia lavorarlo che a parte la lavorazione anche proprio il risultato che dà perché mi piace veramente molto questo è un piccolo ricamo che io ho fatto con dei cristalli utilizzando un filo apposito per i cristalli in modo che quando io li vado a lavare non si sciupano e il filo di cotone o il filo di lana non si spezza e non si allenta quindi sono belli fermi qui sul sulla lavorazione al limite poi vi farò vedere come io ho lavorato ovviamente voi qui potete mettere qualsiasi cosa o non mettere nulla fare una cucitura molto più pulita e lasciarlo così e adesso iniziamo con il progetto per realizzare il nostro cappello avremo bisogno di un io sto utilizzando sempre il mio solito cavetto da 60 ma voi potete utilizzare dei ferri dritti perché come ho già detto non è indispensabile avere i ferri circolari io li uso per mia comodità avviamo 36 maglie deve essere avviato per questo punto sempre un numero pari di maglie quindi io prendo il mio cappio e vado ad avviare 36 maglie sul ferro ora abbiamo le maglie facciamo le 36 maglie poi andiamo a vedere come si sviluppa il punto ti cavo di dirvi che io sto utilizzando sempre il noblesse ma il color lampone che è un bel rosso ma non è quel rosso troppo acceso è molto delicato a me piace tantissimo quindi siccome io uno bianco l'ho già fatto adesso lo andrò a replicare il rosso perché questi saranno per me dei piccoli pensierini di natale come il mio punto è molto elastico vedete questo si si allarga tantissimo per non avere poi quello in estetismo di all'inizio del lavoro quindi le maglie montate possono essere molto strette rispetto poi allo sviluppo della del punto in sé io vado a montare le maglie su tutte e due i ferri vi assicuro che poi non non avremo un avvio slabbrato ma neppure troppo con troppa tensione quindi per chi ha dei ferri dritti può utilizzare tutte e due le punte chi come me sta usando i ferri circolari può fare in questo modo quindi prendere tutte e due le punte ed avviare io avvio sempre con il mio long tail cast on quindi avvio 36 maglie sui ferri ci vediamo alla fine dell'avvio ho avviato le mie 36 maglie sul ferro adesso sui ferri su entrambi ferri quindi vado a sfilare un ferro ed inizio un'alternanza di dritti e rovesci quindi farò il primo giro di preparazione sarà un dritto ed un rovescio l'accortezza che dobbiamo prestare per questo punto è iniziare con un rovescio quindi vado a fare un rovescio e continuo così un dritto ed un rovescio opera quindi un dritto un rovescio un dritto ed un rovescio quindi mi raccomando l'avvio è importantissimo la prima maglia deve essere al rovescio terminato il mio primo rigo e ho girato il lavoro adesso avvicino un po per farvi vedere bene come si deve prendere il punto perché questo è determinante per la riuscita proprio della falsa costa inglese ripeto questo è un metodo semplificato della costa inglese alcuni lo chiamano punto brioche ma io sono per chiamarlo costa inglese ma è un metodo semplificato che ci dà lo stesso risultato ed è molto più semplice in particolare per chi per le principianti dopo aver avviato il lavoro quindi con un rovescio ed un dritto la prima maglia che noi abbiamo qui sarà una maglia al dritto piuttosto che prendere la maglia qui all'interno del cappiolino e andarla a lavorare al dritto normalmente in questo modo noi l'andremo a prendere qui sotto e lavoriamo il nostro dritto lavoriamo un rovescio abbiamo adesso nuovamente il dritto in una situazione normale noi saremmo andati all'interno del punto e avremmo lavorato il dritto per la falsa costa inglese dobbiamo entrare nel punto sottostante passiamo il filo tiriamo fuori e lasciamo cadere il cappio che abbiamo sul ferro facciamo un rovescio e ripetiamo la stessa cosa quindi non entriamo all'interno del punto ma entriamo qui sotto e andiamo a formare il nostro dritto sul ferro di destra il cappio sul ferro di sinistra lo lasciamo cadere e continuiamo così sino a raggiungere la fine quindi entriamo all'interno non nel cappio che abbiamo sul ferro e lasciamo cadere il cappiolino questo è semplicemente quello che dovremmo fare per tutta la nostra lavorazione quindi adesso finisco il primo giro poi andiamo a vedere assieme il secondo giro che è esattamente lo stesso identico ho terminato il mio primo giro volto il lavoro la prima maglia che io ho sul ferro è il rovescio e la vado a lavorare al rovescio la seconda maglia è un gritto quindi io come prima entro all'interno del punto sotto e lascio cadere il cappio e continuo così dritto rovescio dritto rovescio e faremo così ai giri andata e di ritorno sino a lavorare per 65 giri quindi già ne abbiamo fatti due io vi consiglio sempre di prendere un contagiri o segnarti su un foglietto con delle crocette qualsiasi cosa adesso prenderò un foglietto perché ho il mio contagiri ce l'ho già impegnato oppure scrivo direttamente 12 e quindi so che sono sto eseguendo il secondo giro poi cancello il 2 e scrivo 3 in modo che quando lo lascio so a che punto mi sono trovata mi scusate mi sono fermata un altro consiglio utile potrebbe essere quello di andare a segnare ad ogni 10 15 righe andare a mettere un marca punto in modo che sappiamo quante righe abbiamo fatto fino a quel momento quindi se mettiamo il marca punto per segnarci le righe di lavorazione le metteremo metteremo in marca punto al decimo al ventesimo al trentesimo al quarantesimo e così via non andiamo a metterla 10 righe poi a 15 righe altrimenti non avrebbe senso perché ci toccherebbe contare tutte le righe allora io vi suggerisco di lavorare per 65 righe circa perché la circonferenza di un cappello femminile va dai 53 58 centimetri parliamo però di 58 cm di un cappello piuttosto grande quindi io solitamente li faccio con una misura che va dai per star insomma per regolarmi meglio che va dai 54 55 almeno che io non lo debba fare proprio su misura completamente consideriamo anche che lavorando tutta la lunghezza abbiamo la possibilità di andare a misurare ma le 65 righe non vi daranno mai 53 cm o in i centimetri che voi avete che voi dovreste lavorare questo perché perché il punto alla finita costa inglese un punto molto elastico e bisogna fare attenzione a non eccedere nelle misure cioè magari considerare sempre un centimetro in meno piuttosto che un centimetro in più perché è un punto che tende vedete che tende molto a lasciarsi andare ovviamente si lascia andare piuttosto che in lunghezza in larghezza ma vi assicuro che anche qui cede parecchio per cui o fate un campione lo lavate vi fermate vedete come reagisce il vostro punto anche la vostra mano di lavorazione che tipo di tensione avete e quindi andate a fare poi tutti i vostri calcoli per raggiungere la circonferenza che sarebbe la lunghezza del vostro lavoro riportandola poi in giri per cui io ho lavorato per 65 righe voi potete lavorare anche per 65 righe e poi poggiarlo sulla testa quindi prendere tutta la fascia e poggiarla e calcolare almeno un centimetro per la cucitura qui davanti almeno un centimetro perché va fermato per bene ovviamente non abbiamo tutti la stessa circonferenza per cui se si deve fare un pensierino e si sa più o meno che tipo di misura possa avere la persona alla quale lo dobbiamo destinare possiamo anche fare una misura standard e quindi 53 centimetri e mezzo all'incirca 53 centimetri va bene questa è la misura del cappello finito adesso vado avanti per le mie 65 righe di lavorazione dopodiché andiamo a vedere come si deve montare vi assicuro che è un lavoro semplicissimo da fare anche davanti alla tv perché non richiede schema non richiede nulla nessuna attenzione particolare se non andare a prendere il dritto per come vi ho fatto vedere e contare le righe di lavorazione o contare i centimetri a seconda poi del di come avete sviluppato il vostro lavoro terminato il mio la mia porzione di lavoro eccola qui ed io l'ho lavorata per allora non sono 65 righe qui devo fare una precisazione io vi ho detto 65 righe io ho contato i punti quindi queste le v che si vanno a formare considerate che ogni v si forma in due giri uno di andata e uno di ritorno per cui non saranno 65 righe di lavorazione ma saranno 130 righe di lavorazione ammesso che voi abbiate la mia stessa mano ed ammesso che utilizzate lo stesso filato quindi dalle 130 alle 140 righe di lavorazione io però come sapete sono sempre trovo che questi dati siano molto approssimativi quelli dati in in numero di giri di lavorazione se non si segue prima un campione anche per una semplice fascia come questa anzi forse soprattutto perché in particolare questo tipo di lavoro tende a perdere poi le misure originarie una volta montato come cappello per cui io vi consiglio qualora lo lavoraste con questo filato sempre io parlo di questo filato di considerare un 45 centimetri di lavorazione non di più 45 46 io lo leggermente vedete lo sto tenendo un po con il dito in questo modo se io non lo non lo tengo affatto addirittura sono 40 41 centimetri quindi pensate quanto questo sia il tipo di filato che di lavorazione quanto ceda quindi io vi consiglio sempre di fare un campione prima considerate sempre che io sto lavorando per una circonferenza di un cappello di 53 centimetri quindi io mi sono fermata a questo a questa misura quindi sono 65 righe di punto falsa costa inglese ma in realtà sono 130 righe di lavorazione io vi lascerò sempre tutto scritto comunque anche le misure adesso quello che dobbiamo fare per come abbiamo cercato di fare una via abbastanza elastico avviando le maglie con tutte e due i ferri allo stesso modo dobbiamo cercare di andare a chiudere le maglie in modo abbastanza elastico anche se poi verranno chiuse tutte assieme però non voglio che ci sia tensione quindi io faccio in questo modo lavoro tre maglie per come si presentano aspettate che avvicino un attimo dicevamo lavoro 3 lavoro le maglie per come si presentano quindi queste al rovescio l'andrò a lavorare al rovescio queste al dritto non la lavorerò a falsa costa inglese ma l'andrò a lavorare a dritto normale una volta lavorate queste due maglie andrò a chiudere lavoro nuovamente il rovescio quindi ogni due maglie si chiude e vado a chiudere adesso faccio un gettato con il filo da dietro verso avanti e chiudo come se questo fosse una maglia ora ho il dritto e lavoro al dritto e vado a chiudere le maglie adesso il rovescio e lavoro il rovescio e vado a chiudere le due maglie in realtà ne chiudo una adesso con il filo che arriva da dal di fronte cerco di spostare questo e vediamo se si riesce a vedere meglio con il filo che arriva di fronte non faccio altro che passarlo sul ferro quindi da dietro verso avanti lo arrotolo sul ferro in modo morbido ora prendo questo punto e lo vado a cavallare su questo filo che io ho girato vado a formare un altro punto in modo che tutto sarà più elastico ora lavora al dritto e a cavallo la maglia lavora rovescio e a cavallo la maglia ed ora ripeto quello che ho fatto prima quindi una passata di filo sul ferro e vado ad accavallare questa passata di filo in questo modo io avrò tutta la mia lavorazione molto più lenta e più lavorabile alla fine quindi facciamo un dritto e un rovescio è una un una passata di filo un dritto un rovescio e una passata di filo così fino alla fine ho terminato tutta la mia chiusura vado adesso a tagliare una porzione non troppo corta di filo alla fine levo la i ferri circolari perché adesso il nostro lavoro ai ferri è finito ora infilo lago all'interno scusate in filo lago all'interno di niente quindi vado a chiudere l'ultimo punto chiudendo il cappiolino ora il mio dritto è questo dove io ho messo i marca punto li lascio questi marca punto li ho messi ad ogni dieci righe di di punto quindi ogni 20 righe di lavorazione per andare a contare poi tutte le righe se erano effettivamente 65 perché io ho fatto già il bianco e so quante righe devo devo fare per avere poi un una circonferenza di 53 centimetri quindi questo è il dritto io adesso vado sul rovescio ed inizio ad infilarmi con lago all'interno di questi piccoli buchini che si sono creati fra la chiusura e il lavoro quindi così uno sì e uno no uno sì e uno no senza tirare il filo è quindi vado dietro al punto rovescio davanti dietro al punto e dritto davanti al punto rovescio in questo modo e lo faccio sino a raggiungere l'altra estremità ho passato il mio ago all'interno di tutta la lavorazione adesso tiro così e mi vado a fermare sul primo punto che ho infilato ed ho chiuso da una parte ora ovviamente passo per bene in modo da fermare l'arricciatura ecco noi dobbiamo fare solo questo questo è il nostro rovescio e questo sarà il nostro dritto facciamo la stessa cosa sull'altra estremità io questa codina non la taglio per il momento quindi qui erroneamente ne ho lasciato un pezzo troppo piccolo voi quando avviate il lavoro cercate di lasciare una codina sufficiente che vi permetta poi di andare a riprendere tutte le maglie alla fine per fare questa arricciatura ho arricciato entrambe le estremità adesso vado a togliere i miei marca punto anzi ne lascio uno sempre per segnarmi il mio dritto del lavoro perché non vorrei che poi magari devo lasciare per qualsiasi motivo e io francamente mi confondo parecchio tra il dritto e rovescio quindi così mi semplifico solo tutto il lavoro che sto facendo quindi mi lascio una maglia una marca punto scusate per segnare il dritto ora ovviamente io ho lavorato sul mio allora tolgo questo bianco io ho lavorato sulla mia testa un attimo che una volta che ho arricciato tutte e due le estremità non vado ad usare il cappiolino che mi è servito per arricciare ma prendo una gugliata di filo mi metto sempre sul rovescio quindi qui ho il mio marca punto che mi segna la parte dritta piego in questo modo per cui il dritto all'interno e vado a cucire io per il momento non taglio nulla quindi vado a cucire prima cerco di far congiungere proprio la metà con l'altra metà quindi mi infilo da una parte e dentro dall'altra io non ho fatto nessun modo poi vado a prendere proprio il bordo esterno e vado a dare due punti almeno 34 punti da una parte 34 punti da un'altra facciamo tre punti ecco io ho preso in considerazione proprio i punti di lavorazione torno indietro sono nuovamente al centro e cuccio 34 punti di lavorazione ovviamente adesso fermo tutto ti faccio un piccolo passaggio con un paio di nodi una volta che ho terminato di cucire il davanti quindi o qui sono sempre sul rovescio del lavoro vado a pareggiare un lato che può essere il sopra o il sotto è indifferente perché noi non abbiamo dato nessuna non abbiamo modellato nulla quindi è un per un una fascia chiusa con gli stesse le stesse estremità e lo stesso numero di punti quindi vado a mettere un pezzo dentro l'altro in questo modo e individuo il centro una volta individuato il centro vado a mettere un marca punto proprio sul centro e per me il centro è questo ora dal marca punto in poi verso l'interno del mio lavoro vado a contare 6 v quindi le v che si sono formate con la mia lavorazione queste qui quindi questo è il mio centro lo escludo dal conto 123456 una volta che io ho pareggiato vado a chiudere questa porzione con un marca punto in questo modo e queste sono tutte le maglie che io andrò a prendere tutte assieme ora inizio la mia cucitura da questa parte cercando di prendere allora se io lo metto sul dritto io vedo che qui a un'estremità o una v e qui a un'estremità o un'altra fila di v io devo prendere questi due lembi e andarli a cucire per cui cucirò proprio qui all'interno da una parte e dall'altra in modo che venga una cucitura pulita quindi prendo lago io in questo caso un nodino l'ho fatto lo fermo appena qui sul lavoro con un paio di punti in modo che non mi scappi sempre portando il lavoro i pezzi uno dentro l'altro inizio a cucire quindi vado proprio all'interno di questa parte e di questa parte e do dei punti qui ovviamente non posso andare a fare un punto maglia un punto nascosto uno perché mi servirebbe una certa stabilità e due perché ho questo bordo di chiusura di tutto il lavoro che poi se non cucio come si deve come ho fatto nell'altro berretto si vedrebbe e sarebbe davvero una cosa antiestetica quindi ecco e adesso vado a cucire in questo modo con dei punti magari torno anche indietro per assicurarmi la tenuta quindi cucio tutta questa parte sino ad arrivare a questo marca punto arrivata all'altezza del marca punto con la cucitura lo tolgo perché ora non è più bisogno tolgo anche il marca punto del centro apro il lavoro io faccio in questo modo metto il dito dentro e vado ad infilarmi così su queste v senza tirare il filo un po come la chiusura che noi abbiamo fatto all'inizio e arrivo sull'altra estremità adesso passo il lago sul dritto del lavoro risvolto tutto il mio berretto in questo modo questa è la cucitura che abbiamo fatto oppure la scusate allora questa è la cucitura che abbiamo fatto finora questa è la parte del retro quindi non faccio altro che andare a tirare il filo e andarla a cucire perché mi metto sulla parte davanti perché voglio assicurarmi che venga un lavoro pulito adesso riparto e ripasso sul retro e vado a fermare tutti i punti che ho raccolto una volta fermati i punti vado a fermare la codina sul retro quindi ripasso un po all'interno di tutta la lavorazione se utilizzate questo tipo di filato il noblesse vi dico subito che una volta che voi annodate bene le codine una volta lavato si infiltrisce un po dove sono dove sono i nodini per cui non occorre lasciare troppo troppa coda alla fine del alla fine del nodo allora una volta che noi abbiamo terminato provvediamo a nascondere tutte le codine quindi rinfilarle fare nodini eccetera eccetera il nostro belretto è terminato eccolo qui togliamo adesso il marca punto perché non ci occorre più ora io che cosa ho fatto ovviamente avendo la testina di polistirolo l'ho messo sulla testina di polistirolo e sono andata a ricamare gli cristalli e le perline seguendo un ordine e ispezionando proprio durante la lavorazione tutto quello che io stavo facendo quindi una volta adesso cambio inquadratura e l'andiamo a vedere proprio sul manichino eccolo qui scusate la il tutta la confusione sul retro ma questo ovviamente il mio tavolo da lavoro e quindi non può esserci un ordine maniacale io non sono ordinata di natura ma mentre si lavora sapete meglio di me che l'ordine difficile tenerlo quindi io dicevo una volta che io ho terminato tutto il mio cappellino eccolo qui io da questa posizione vado a fare il ricamo con le perline ovviamente se voi non disponete di questo tipo di di testa di polistirolo potete gonfiare un palloncino metterlo all'interno di un palloncino proprio tutto il cappello e poi andare a ricamare tanto noi andremo a fermare le nostre perline proprio al di sopra non faremo un lavoro di cucitura di cucitura scusate di ricamo da sotto a sopra quindi non c'è neppure il rischio di bucarlo con l'ago noi però adesso lo faremo in piano vi faccio vedere almeno i materiali che utilizzo e come mi regolo pressa poco pressa poco scusate per il ricamo ovviamente io andrò a coprire questa parte che che ha la cucitura se voi magari non volete mettere nulla davanti quando risvoltate il cappellino qui andate a fare una cucitura oppure andate a chiudere in modo più pulito tutto quello che è il lavoro che abbiamo fatto qui davanti per abbellire il mio cappellino io ho scelto un cabochon così con i quattro fori dietro vedete qui è furato uno due tre quattro e questo lo andrò a mettere proprio al centro in questo modo e poi andrò a cucire dei cristallini questi sono da 3 mm sono davvero molto molto piccoli giusto per dare un po di luce l'andrò a cucire attorno una raccomandazione che faccio sempre quando andiamo a ricamare delle perline dei cristalli qualsiasi cosa sulla lana piuttosto che sul cotone o la andiamo proprio a lavorare per fare dei piccoli gioielli con dei cristalli cerchiamo di utilizzare sempre i fili quindi fili da ricamo per questo tipo di lavoro o di cucitura adatti perché se noi prendiamo del cotone semplice rischiamo che il taglio del buco del nostro cabochon piuttosto che l'estremità e quindi l'estremità del buco dei nostri cristalli col tempo tagli il cotone quindi è indispensabile innanzitutto un ago adatto perché altrimenti lì e col foro così piccolo non entrerebbe nessun ago e poi io uso uno un filo questo è da 0 15 ed è un filo adatto proprio per la tessitura delle perline in questo caso io mi assicuro che il mio ricamo da qui non si muove quello che noi adesso andremo a fare andremo con la nostra fantasia a ricamare però non cucendo da sotto a sopra io adesso mi fermo il filo in questo modo quindi lo vado a cucire proprio sopra al filato così e cerco di affrancarlo per bene cucio il mio cabochon al centro quindi entro prima nelle due nei due fori e lo vado a fermare entro nei fori di sotto e cerco di fermarlo nel modo più dritto possibile una volta fatto questo quando lo sistema per bene con le cuciture vado ad abbellire con i miei cristalli quindi prendo adesso vi faccio vedere giusto qualche punto entro all'interno della lavorazione prendo un cristallino io sono molto lontana per me è difficile anche se ho la lente davanti ma vabbè ricamo i miei cristalli sul mio lavoro ovviamente questo se ripeto avete un supporto come quello che ho io quindi questa testa di polistirolo vi aiuterà molto a capire che orientamento state dando al ricamo se non avete questo tipo di di supporto potete potreste utilizzare anche un palloncino gonfiato tanto vedete la lavorazione che io vado a fare la vado a fare solo al di sopra ovviamente questo adesso non significa nulla ma l'andrò a riempire magari con altri materiali qualche perlina per dare un po di luce e in questo modo il nostro cappellino è terminato quindi poi qui sopra qui davanti possiamo andare a mettere ciò che vogliamo è molto carino si allarga tantissimo quindi non vi lasciate spaventare dalle dimensioni che avete una volta che l'avete che avete terminato la fascia se vi sembra troppo stretta ovviamente il campione sarebbe sarebbe indicato anche se sembra quasi superfluo ma sarebbe indicato proprio perché ci aiuta a calcolare per bene la circonferenza anche se non deve essere proprio precisissimo ma se noi lo facciamo su misura credo che sia una buona idea andare a vedere quanto ci frutta la lana e quanto cede soprattutto quindi anche il lavaggio è molto importante un consiglio che voglio darvi quando voi fate la fascia la prima maglia e la seconda maglia lavoratela sempre al dritto normale al rovescio normale senza eseguire il punto caduto della finta costa inglese questo perché perché vi darà un bordo più sostenuto questa allora io qui ho lavorato il dritto iniziale il rovescio iniziale a dritto e rovescio senza fare nessuna variazione su quest'altro invece su questo qui bianco ho lavorato la prima maglia per come doveva essere lavorata quindi il rovescio al rovescio e il dritto preso sotto a finta costa inglese trovo che in alcuni punti con l'andare del tempo questa maglia di bordo si possa cedere e possa venire qualcosa di bruttino in estetico una volta che l'andiamo a lavare e l'andiamo indossare quindi per una maggiore sostenibilità proprio di tutto il lavoro io vi consiglio di fare questo poi vedete voi questo è solo un consiglio ognuno fa come crede io adesso finisco di sistemare tutti i miei cristalli credo che questi trasparenti non li metterò perché non mi piacciono quindi adesso li dispo e li vado a togliere il centrale penso di lasciarlo e magari metterò giusto veramente qualcosa di piccolissimo vi faccio vedere le foto alla fine del video allora ho deciso di lasciare solo questo cristallo perché credo che altrimenti verrebbe troppo carico quindi mi piace così per me va benissimo ora ve lo faccio vedere sul retro qui una volta che poi il cappello viene lavato vi assicuro che tutto cambia nel senso che il anche il lavoro diventa più uniforme anche perché questo filato io lo trovo stupendo questa è una semplicissima idea da fare con questo tipo di filato se voi volete potete comunque farlo del filato con il filato che avete in casa qualsiasi cosa utilizzare lo stesso punto perché io lo trovo molto morbido molto elastico è adatto per questo tipo di lavoro e dovete solo andare a misurare la circonferenza della testa quindi io vi ho detto che per un adulto sono dalle 53 dai 53 58 centimetri all'incirca voi conoscendo la persona poi o magari dovendolo fare per voi stessi andate a prendere la misura calcolate sempre nella circonferenza che poi avete tutta questa cucitura davanti per cui non vi resterà proprio con un cappello che vi copre la fronte ma qui a questa piccola v è un po un cappello turbante diciamo così se vi sono stata utile se questo tutorial vi è piaciuto e mi lasciate un like vi ringrazio se vi iscrivete al canale attivate la campanella e ricevete poi tutte le tutti gli aggiornamenti sugli altri video che vi propongo se e quando riesco a farne per quanto riguarda la questo filato che io ho utilizzato vi ricordo sempre che io utilizzo i filati di mani in maglia avete uno sconto del 10 per cento digitando cerchi di maglia 10 nel codice nella alla fine del vostro acquisto riempiendo il carrello avete il codice sconto questo codice sconto esclude tutti gli altri prodotti in promozione io vi lascio anche il link del filato che ho utilizzato sia del bianco del cappello bianco che del cappello di questo rosso ciliegia e vi lascio il link qui sotto nel box informazioni se volete utilizzare questi cristalli io credo di averli presi da filincanto non ricordo bene comunque questo tipo di di cabochon potete trovarli adesso non so francamente dove di preciso se trovo qualcosa comunque vi lascio il link per il resto io vi saluto e ci vediamo sicuramente per gli auguri di natale